Ogni mattina Matteo Mangano, il pastore di Varche Podoliche, quelle del cacciacavallo, spigliava una pera, se la mangiava, conservava i semi dentro la cassetta e custodiva un altro pezzo di storia. Bene. Con permesso, scusate le spalle. Salute. 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 Favoritazzo. Grazie. Oh, assaggiamo. Dai, vediamo un po'. Come si chiamano queste cuarce? Stracenotte con la ricotta attuosa. Stracenotte? Stracenotte, cioè, ti puoi mangiare solo di seme. E' un giorno, stracenotte, 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 stracenotte. E poi, ho fatto la parmi giù. E poi, ho fatto la parmi giù. Ma come stai parlando? La parmi giù. Tu, hai preso proprio l'accento. Ma io sono stato stesso qua. Hai vissuto qui? All'inizio, all'inizio, ci avevo pensato. Poi ho avuto problemi con la residenza, dove sono andato. Vabbè, comunque, va a farmi giù. Si taglia a feste. D'amoraggio, venzucchi. Si friggono le impanate. Prima andò la farai. E poi, andò lo sbattiamo. Poi si condisce. Ho la salsa di pomodoro. Patigiano. Ma la salsa. La salsa, la salsa. La salsa, la zianini. Ti pare, guarda, zianini. Ma non ne avevi. Ma? Tante si è fatta zianini. Ma, veramente. Per un po' di tempo l'ho rimosso. Perché ci vuole spazio di memoria per te. No. No.